Maestro è gennale esposito e quindi si parla di cucina. L'idea è stata quella di partire dalla pasta e chiaramente il suo cugino prediletto è il risotto. Un racconto semplice con ricette di casa a tratti molto familiari ma a tratti anche un po' più creativi. Dei piccoli aneddoti, dei piccoli trucchi su come poter costruire la propria idea di una ricetta sulla pasta.